Ciao amici, oggi voglio farvi gli auguri di Natale. Voglio augurarvi una cosa che mi chiedono in tanti, di fare la differenza nella vita. E voglio anche dirvi come fare la differenza nella vita. Oggi non sono più tempi in cui possiamo fare la differenza a livello globale, perché la differenza a livello globale la fanno i cattivi. La fa... la fai... La fanno tutte quelle brutte situazioni che risuonano e rimbombano a livello globale. Ma noi possiamo essere gli eroi del nostro quotidiano. Nel nostro quotidiano possiamo fare la differenza. In che modo? Riappropriandoci dell'unica cosa che ancora non ci fanno pagare, ancora non è tassata ed è ancora disponibile nelle nostre mani. È il nostro tempo, ok? Quindi riappropriamoci del nostro tempo, che ancora non ce lo stanno facendo pagare, ancora non c'è la tassa sul tempo. Tra un po' arriverà anche quella, ma per adesso diamo qualità al nostro tempo, dedicandoci alla meditazione, alla cura dell'alimentazione, al nostro benessere, allo stare bene, al coccolarci, ad avere cura di noi. Questa è l'unica cosa importante che può fare la differenza nella nostra vita. E poi dal nostro benessere noi possiamo anche dare benessere a chi ci sta intorno e diventare gli eroi del nostro quotidiano. Così possiamo fare la differenza, così possiamo trascorrere un buon Natale e anche tutti i giorni a venire. Quindi tanti auguri di buone feste!